Buonasera gentili telespettatori di Telesirio, ben trovati ad uno spazio di commento sulle scorse elezioni politiche. Ancora in corso le consultazioni, ancora l'Italia non ha un governo. Torno a trovarci per commentare il post voto il collega Alessandro Rico del quotidiano La Verità. Alessandro benvenuto e bentornato. Ci siamo visti qualche giorno fa immediatamente dopo le elezioni, dopo l'uscita dei voti si stavano delineando i seggi. Adesso a che punto siamo? Siamo al punto per cui tutte le forze politiche cercano di scaricare il barile sulle altre reciprocamente e siamo al punto in cui tutti quanti aspettano che un altro faccia la prima mossa. Quindi abbiamo avuto proprio oggi, stamattina, i grillini che dicevano se si fa il governo centrodestra più PD si finisce con il logoramento di queste due formazioni e quindi noi finiremo poi con lo sbancare. Se invece si facesse il governo 5 Stelle più PD che sembrerebbe auspicato da Di Maio e da una parte del PD, quello diciamo anti-Renziano, quindi governo 5 Stelle più PD di Renzizzato l'opinione del centrodestra è che queste due forze si logorerebbero e quindi da eventuali elezioni anticipate si arriverebbe con una vittoria del centrodestra l'opinione di una parte del PD, quella contraria all'accordo di governo sia con centrodestra sia con 5 Stelle pensa la stessa cosa, cioè pensa facciamo governare chi ha vinto o chi dice, chi sostiene di aver vinto queste elezioni noi aspettiamo, stiamo all'opposizione come ci ha detto il Paese questa sembra essere la tesi diciamo del PD di Renziano e beneficeremo di questo momento di pausa perché poi si farà il confronto e si vedrà chi dei due o chi dei tre abbia governato meglio quindi diciamo siamo in una fase di... lo potremmo quasi definire citando delle scene dei film di Quentin Tarantino che amava molto metterci questa scena qui il famoso Mexican standoff cioè lo stallo alla messicana per cui tutti quanti hanno la pistola puntata sull'altro e il primo che spara sa che però finirà con far ammazzare tutti però possiamo dire che Tarantino è un copione di Sergio Leone quindi questo è puramente italiano questo tipo di atteggiamento vero è vero, queste erano scene che amava molto mettere nei suoi film Sergio Leone che poi lui ha citato, ha incollato in tutti i suoi film principali in tutto questo la Lega? in tutto questo la Lega torno a ripetere una cosa che avevo detto quando ci siamo incontrati l'altra volta dal mio punto di vista Matteo Salvini dovrebbe aspettare dovrebbe essere un astuto stratega non farsi prendere dalla stessa foga che ebbe di andare al governo Renzi quando ebbe l'occasione di tradire Enrico Letta dovrebbe invece aspettare e vedere quali sono le mosse che fanno gli avversari secondo me gli farebbe comodo tutto sommato un governo PD 5 Stelle perché gli consentirebbe di dimostrare che quel tipo di forze politiche non hanno la capacità di portare a termini quel programma di cambiamento per cui sono state investite dall'elettorato quello che lui sta facendo in queste fasi credo che sia abbastanza scontato nel senso sta dicendo si sta accreditando come leader del centrodestra al posto di Berlusconi al posto delle altre personalità che Berlusconi aveva voluto lanciare ad esempio Tagliani e sta cercando di o almeno sta mostrando l'intenzione di lavorare ad un'intesa per un eventuale governo con il centrodestra cosa che però è abbastanza improbabile anche ipotizzando il contributo dei famosi responsabili tra l'altro bisognerà vedere poi pure questi deputati grillini eletti con il 5 Stelle ma che si sarebbero dovuti di mettere passando al gruppo misto cosa potrebbero fare visto che Berlusconi ad esempio prima delle elezioni aveva detto beh potremmo pensare anche a una sorta di campagna acquisti rispetto alla quale Salvini invece era appariva contrario per cui insomma al momento vedo un Salvini abbastanza prudente che cerca di far valere il risultato che ha ottenuto è indubbiamente soddisfacente per la sua formazione politica ma che non fa il passo più lungo della gamba e se i 5 Stelle forzassero la mano e richiedessero le elezioni oggi che cosa succederebbe secondo te? ecco il problema è che elezioni oggi o comunque nel brevissimo termine senza diciamo la la nomina di un governo nuovo temo che darebbero lo stesso risultato che hanno dato il 4 marzo oggi tra l'altro vedevo una simulazione interessante che ha fatto Utrend mostrando come con qualsiasi legge elettorale d'Europa praticamente quindi sia le leggi elettorali italiane passate Porcellum, Mattarellum sia la legge spagnola quella greca quella francese che addirittura quella inglese che è un maggioritario quasi puro fondato molto sui collegi non i nominali non avrebbero dato una maggioranza certa né al Senato né alla Camera oppure sarebbe mancata una delle due Camere quindi il problema è che una legge elettorale deve rispecchiare quella che è la composizione dell'elettorato per cui se l'elettorato è molto polarizzato e molto diviso è chiaro che poi non si arriva non si addiviene una maggioranza per cui il voto diciamo l'intelligenza strategica adesso dei leader politici sarà quella di calibrare eventuali elezioni anticipate giocandole né troppo in anticipo né troppo in ritardo perché troppo in anticipo si rischia di ritornare alla situazione di stallo che c'è oggi troppo in ritardo si rischia di dare il vantaggio all'avversario e quindi è davvero un gioco delle parti e questo riguarda anche in qualche modo l'Abruzzo anche in qualche modo il territoriale ad oggi ancora abbiamo come novità rispetto all'ultima volta che ci siamo visti l'ingresso, lo scatto dei seggi che è andato a favore di Stefania Pezzopane per la Camera ed anche di Luigi Deramo sempre per la Camera rispettivamente un seggio PD e un seggio della Lega nel frattempo però entra ufficialmente era già entrato ufficialmente anche Luciano D'Alfonso che ricopre il ruolo di Presidente della Regione ma ancora non si dimette che cosa sta succedendo per D'Alfonso ecco oggi c'era un interessante articolo su Huffington Post che derideva un po' questa posizione assunta da D'Alfonso dicendo D'Alfonso fa una lezione di diritto per giustificare il fatto che vuole tenersi due poltrone in realtà D'Alfonso avrebbe a quanto pare citato un famoso giurista mortati giustificando la sua decisione per ora di non lasciare la carica di Presidente della Regione per dedicarsi a tempo pieno a fare il deputato perché dice finché non si viene proclamati ufficialmente non c'è la certezza matematica di aver preso il seggio in realtà credo che più che la volontà di tenersi due poltrone che onestamente non penso gli serva molto c'è da parte del PD abruzzese perché nell'immediato ancora non ne avrebbe benefici dell'altra poltrona diciamolo esatto ma credo che lì la questione sia un'altra cioè che il PD abruzzese che ha avuto una debacle anche superiore rispetto a quello che è il dato nazionale e l'ha avuta a Pescara dove è stato sul classato dal Movimento 5 Stelle nel feudo di D'Alfonso ma l'ha avuta anche nel nostro territorio aquilano dove il PD che almeno al Senato presentava un esponente di punta come Massimo Cialente è stato sul classato dalla coalizione di centrodestra e anche dal candidato del 5 Stelle quindi l'intenzione di D'Alfonso credo come leader in qualche modo collegato anche a Renzi del PD abruzzese a Renzi ma anche a Del Rio in realtà credo che la sua intenzione sia quella di prendere tempo di prendere tempo perché più tardi si va a eventuali elezioni regionali al limite anche alla scadenza naturale della legislatura regionale che lo ricordiamo a beneficio del pubblico è del 2019 mentre un'altra condizione potrebbe portare le elezioni anche a maggio-giugno tempo utile 2018 Sì, ecco, credo che l'intenzione sia quella di evitare quest'ultimo scenario per cui il PD sarebbe evidentemente svantaggiato da un punto di partenza che è quello dell'insuccesso alle elezioni del 4 marzo a livello nazionale quindi probabilmente l'intenzione di D'Alfonso è quella di tirarla il più possibile per le lunghe Per cercare un po' di consolidare le posizioni sostanzialmente quanto meno di risalire anche perché anche D'Alfonso rispetto alle previsioni iniziali al di là della debacle di tutto il partito di tutta la coalizione di centro-sinistra anche D'Alfonso non ha fatto la riuscita che si auspicava Diciamo che D'Alfonso è rientrato grazie al fatto che non era il candidato dell'uninominale questo è il punto perché abbiamo visto che poi agli uninominali il PD ha perso ovunque chi aveva poi anche il posto nei listini proporzionali è potuto rientrare è successo a personalità di punta ed esponenti di spicco del PD in tutta Italia chi non aveva questo paracadute proporzionale non è rientrato e nel caso di D'Alfonso è chiaro che non si poteva pretendere di avere anche il salvagente e quindi nel suo caso la fortuna forse anche l'abilità strategica è stata quella di assicurarsi il primo posto nel listino proporzionale e quindi ora ci avviamo a questo fine settimana un fine settimana in cui probabilmente il Quirinale non si lavorerà in qualche modo ci si fermerà ma non si fermeranno sicuramente le contrattazioni le riflessioni che cosa che fine settimana sarà per Roma ma io credo che come dicevi giustamente tu il lavorio diplomatico tra gli esponenti di partito almeno dietro le quinte non si fermerà credo che sicuramente da parte dei 5 Stelle ci sia la volontà da quello che vedo di approfittare della situazione e tentare la costituzione di un governo credo che questo dipenda in parte anche dal fatto che i leader dei 5 Stelle Di Maio in testa sanno che i neo eletti non hanno nessuna voglia di tornare alle urne in tempi brevi e questa è una cosa abbastanza chiara perché persone che tra virgolette possono in certi casi essere definite anche dei miracolati non rinunceranno facilmente ai propri scranni Io sottolineo sempre che questa rinuncia la fa con difficoltà anche un non miracolato anche uno che c'è di mestiere sulle poltrone In generale la fanno tutti la fanno tanto più quelli che ci sono arrivati un po' trascinati dalla fortuna la fanno anche i cosiddetti politici di professione tra l'altro credo che ad esempio nel centro-destra in caso di elezioni anticipate si potrebbero riaprire dei contenziosi almeno all'interno dei partiti che non hanno avuto proprio una performance brillante come Forza Italia per esempio in Abruzzo noi abbiamo avuto una candidata tradizionalmente forte come Paola Pelino che non è entrata quindi io immagino che poi nel momento in cui si andassero a riscrivere le liste ci sarebbero dei nodi che vanno sciolti Avrebbero delle pretese diverse certo Probabilmente sì tra l'altro non è nemmeno auspicabile come mi era parso di sentire da alcuni ambienti leghisti mi sembra di averse detto Giorgetti la prospettiva di fare un governicchio di scopo che varia una nuova legge elettorale la legge elettorale che abbiamo non è la migliore del mondo soprattutto perché non ha le preferenze e soprattutto perché ci sono questi giochini tra maggiorità e proporzionale che insomma già erano discutibili forse nel Mattarello ma adesso sono stati esasperati proprio per il fatto che in assenza di preferenze poi chi hai cacciato dalla porta rientra dalla finestra Sicuramente è difficile e poco adattabile per una configurazione almeno con tre poli a questo punto Certo però a meno che non si abbia intenzione di inventarsi qualche premio di maggioranza che poi probabilmente la Corte come ha già fatto in passato giudicherebbe in costituzionale non credo che una nuova legge elettorale risolverebbe il problema perché il problema in Italia a questo punto non è un problema tecnico è un problema politico e quindi va risolto per vie politiche E per concludere i cittadini dove sono? Se ne sente parlare veramente poco in questi giorni perché l'attuale sistema politico l'attuale assetto che è venuto fuori dalle urne è venuto fuori per volere dei cittadini Ma si dice oggi lo diceva il fatto che gli elettori del PD per la maggior parte sarebbero favorevoli a un governo a 5 stelle poi pare che questa cosa non sia vera cioè un governo PD più 5 stelle pare che questa cosa non sia vera sembrerebbe che la base della Lega punti all'alleanza col PD scusi con il Movimento 5 Stelle in generale il segnale chiaro che è venuto dall'elettorato è stato cambiate le cose scompaginate l'attuale sistema non è vero nemmeno quello che si era detto a proposito delle code per la richiesta del reddito di cittadinanza è stato evidente che fosse una fake news su impossibile a questo punto senza un governo non ci sarebbe neanche la possibilità di applicare nulla su certo significa trattare gli elettori come pensare insomma siano stupidi il segnale che hanno mandato loro è chiaro poi ripeto siccome siamo in una democrazia rappresentativa e non in una democrazia diretta come vorrebbero forse alcuni 5 stelle è chiaro che poi all'ultimo momento in ultima istanza la decisione finale su come gestire l'architettura politica del governo spetta i rappresentanti eletti per cui i cittadini parlano si esprimono attraverso le urne ma poi inevitabilmente c'è una mediazione del palazzo da cui e anche del capo palazzo che è il capo dello stato è certo da cui dirette streaming a parte i palazzi svolgeranno sempre il loro ruolo bene questo è lo stato dell'arte che oggi possiamo spiegare possiamo aiutare a capire anche i nostri telespettatori naturalmente ci torneremo ci torneremo sicuramente la prossima settimana per vedere a che punto stanno le cose se magari a quel punto l'Italia avrà un governo o che cosa sarà stato deciso per questo paese ringraziamo Alessandro Rico giornalista della verità nostro collega per esserci stato così utile essere stato nostro ospite ringraziamo a casa ai gentili telespettatori che ci seguono con affetto e vi lasciamo in compagnia della nostra programmazione buona serata a tutti e vi lasciamo